Carissimo Checco, il quadro magico della situazione artistica che traversiamo e che tu mi hai mostrato nelle sue quattro schifose facce e che io pure avevo intravisto, il luogo di scoraggiarmi e rattristarmi, sento mi servirà per trarne salute e forza a continuare la mia strada deciso a conquistare presto o tardi il posto che mi spetta. L'effimera gloria o il successo finanziario non sono ancora il mio scopo più vicino. L'arte per me resta un faticoso problema, ma soprattutto un grave e serio impegno morale di fronte a me stesso, tanto più rigorosamente posto e sofferto, tanto più profonde ed intime le soddisfazioni. Dunque nessuna concessione di ordine materiale, né bartolinizzarmi in alcun modo. Il mio isolamento, caro Checco, è un fatto ed un moto volontario. Farsi valere, ma io ho ben poco da far valere. Quello che importa è di trovarli prima e di realizzarli dei buoni valori. Non ho altra ambizione per il momento. La mia casa potrò benissimo trasformarla in galleria.